Buongiorno a tutti, siamo questo oggi qui con Andrea Aime, uomo partita di questo San Sebastiano Busca una vittoria molto importante per voi, il lancio di nuovo in vetta alla classifica, riuscite a tenere la testa ti chiedo com'è stata questa partita, com'è andata anche visto il vento, questo oggi era tosta è stata una partita tosta, soprattutto al primo tempo, siamo stati sempre su di giri al secondo tempo è stato molto più tosto da parte difensiva, però siamo riusciti a portarla a casa è andata molto bene sbloccarla subito vi ha dato forse una marcia in più, forse sì sì sì, soprattutto per quello, secondo tempo siamo riusciti molto di più a gestirla, sai molto di più, in fase difensiva siamo stati molto più cinici e è andata molto bene tra l'altro con Ariaudo vi alternate spesso in campionato, ti chiedo come stai con lui se c'è qualche allenamento magari particolare che fate insieme ma no, ma io e lui ci troviamo molto bene, è una persona d'oro e niente, allenamenti sono sempre grazie a Federico Serra i migliori e niente e tra l'altro due tue parate hanno deciso anche questa partita, soprattutto sulle punizioni del Busca, ti chiedo hai avuto difficoltà a marcare poi l'attacco, anche perché in alcune situazioni erano molto pressanti in area sì, infatti qualche uscita alta, per fortuna che mi ha fischiato fallo che se no non so come andava a finire, però dai è andata bene, nel complesso sono contento per la mia prestazione ottimo, molto bene, ti chiedo solo più questo, come vedi la partita di Coppa di giovedì? ma speriamo di portarla a casa, vedo solo quello bene, grazie, grazie mille grazie mille a voi